Signore e signori, sta per iniziare Vaure in Onda una nuova puntata della nostra consueta La nostra trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Science Web Network, in Science Web Radio e Science Web TV, a cura di Econ, il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca! Quando ci sono il mitico e preziosissimo Luca e l'inimitabile grande e grosso Sayuz! In provvisoriamente i due compagni più uno, M, 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 ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più! Tre! Sì, perché per l'appunto giunta la sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su Science Web Network, il lunedì sera! E appunto come ogni due di sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, set, senza European Time! E per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti! E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci, semplicemente potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.saiuzwebnetwork.it Pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di post elettronica Info-chiocciolasaiuz.com, Gianluca-chiocciolasaiuz.com e Luca-chiocciolasaiuz.com Nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Saiuz Web Network e poi ancora in Twitter con il nome Chiocciolasaiuz, quindi at Saiuz, tutto attaccato minuscolo ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saiuz carica per tutti noi in YouTube con il nome Saiuz Radio, tutto attaccato minuscolo e poi vi ricordo la nostra pagina, il blog in www.saiuzwebnetwork.net perché Saiuz Web Network è Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza nonché pure per una maggiore completezza di informazioni che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saiuz Web Network provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Steel Nameless questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo in provincia di Trapani e che comunque potrete sempre trovare come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saiuz Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda anche sotto licenza Creative Commons sempre nel solito sito di Jamendo in www.jamendo.com ed ora signore e signori che la diretta abbia inizio si parte, via! molto bene cari amici ed eccoci qua al vostro Saiuz ai microfoni di Saiuz Web Network in www.saiuzwebnetwork.it come vedete sono solo questa sera perché tutti gli amici dovevano accompagnarmi invece gli altri compari stasera se ho dato la macchia scherza a parte Luca è rimpegnato e Gianluca ha un grosso problema col suo computer quanto sembra non riesce a usare Skype questa sera per unirsi a noi e quindi sono qua da solo solo soletto e allora come al solito io vi faccio ascoltare solo tanta tanta musica giusto perché la diretta abbia inizio abbia un proseguo e vada avanti come si sul dire o no? stasera voglio farvi ascoltare un gruppo abbastanza noto nel campo della musica sotto licenza Creative Commons sono i Gone by Free Day vi farò ascoltare diversi brani di questo gruppo perché è un gruppo veramente che merita anche se tempo fa sul nostro sito, sul blog del nostro sito io vi ho mandato, vi ho scritto un post riguardante questo gruppo quindi siamo qua tutti insieme appassionatamente vediamo se riusciamo stasera ad acchiappare Gianluca a un certo orario se no io sono solo sto qua, bello, tranquillo vedete le foto dei nostri cari compari che sono in alto Luca e Gianluca insomma vedete quei due disgraziati baldi giovani che insomma anche se sono giovani hanno, come si sul dire, hanno marinato la trasmissione ma scherzi a parte vi faccio subito ascoltare un brano poi vi dirò alcune cose che sono importanti questa sera Marco se ci sei ancora batti un colpo io ci sono ciao Marco ti ho acchiappato in chat spero che non sia andato via non andare via resta lì anzi fammi compagnia perché sono solo questa sera mando un brano e poi dopo diciamo vi ritorneremo con qualche titolo qualche annuncio che voglio io darvi appunto diciamo di notizie un po' in generale perché insomma da sola si fa un po' fatico a portare avanti la diretta che di solito è sempre stata accompagnata da tre persone due o tre persone al massimo ok questa sera allora partimo subito con un banno dei Gone by Free Day che se ci fossero i miei compari stasera si avrebbero preso in giro a più non posso ma insomma ragazzi accontentatevi di questi inglesi anche perché io poi dopo chi ci guarda sulla web tv vi faccio vedere sia la cover la copertina insomma dell'oro LP e il titolo del brano quindi potete fare quindi vi suggerisco di guardare la web tv che è sulla stessa pagina del sito partiamo col brano e come al solito dico vai col brano che siamo tutti noi e come al solito dico I beat you to the punch, I left a note, I'll be gone by Friday This night I'm running out of patience, I don't care, it's this empty bus station Tonight I was gonna be honest, I got lost in shame and taunted This night I'm running out of interest, breaking down a gossip for a request Forget me just like you should, this night I'll be gone for good I know that tomorrow seems so far away and I know I'll never see your face for good Riddance to all your friends, I hate to see me go but I'd love to see this end And five minutes was all I had, you were never that much fun But I'm the one with the smoking gun This night I'm the main attraction, a long number, a mixed fraction My math was never that good, this night I'll be missing in action Savage Jews just take this for instance, hypothetical, identical mispring Steel cards start to play, I'm the winner in all these games I know that tomorrow seems so far away and I know I'll never see your face for good Riddance to all your friends, I hate to see me go but I'd love to see this end And five minutes was all I had, you were never that much fun But I'm the one with the smoking gun Good riddance to all your friends, I'd hate to see me go but I'd love to see this end And five minutes was all I had, you were never that much fun But I'm the one with the smoking gun 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 Ed eccoci qui cari amici, siamo di nuovo in linea, benissimo C'ho Gianluca che dice che non riesce a sentire neanche la web radio questa sera dal sito Mi sembra strano, anzi se mi state ascoltando ditemi se ascoltate qualcosa, se sentite qualcosa Perché è molto importante che sentiate Allora vi dicevo prima che sono rimasto solo, ma insomma solo per modo di dire Perché sono insieme a tanta bella gente, insomma Se poi venite sulla chat e venite insomma a fare due chiacchiere col sottoscritto, benissimo Io ci sono, insomma sono presente, non ho nessun problema a fare quattro chiacchiere con voi L'unica cosa adesso volevo solamente ricordarvi, Marco mi dispiace che non ci sei più, sei andato via Comunque se senti la registrazione ti ho salutato, chiedo scusa perché non avevo visto il messaggio in chat Allora vi dicevo, ad ascoltare di Gone by Friday il pezzo era Smoking Gun E' scritto Gun, io dico Gun, ma insomma fate voi Insomma comunque chi ha potuto vedere tramite la web tv e vi consiglio di vedertemi tramite la web tv Anche perché mi vedete in carne d'ossa Ha visto anche il titolo del brano e la copertina dell'Oral P che è molto importante Scusatemi un attimo che risponde a Gianluca Come mai Gianluca non senti? Non senti? Ho scritto a Gianluca, vedete? Quel disgraziatino Gianluchino Mancusina che stasera insomma sta avendo tanti problemi col computer Se ci fosse qualche anima pia che mi mettesse a posto a sto benedetto computer non sarebbe male Allora sono solo, vi ripeto, sono le 22.25 Abbiamo iniziato in ritardo insomma a tornare le 22.12 Appunto perché cercavo e cercavamo con Gianluca di riuscire a prendere la telefonata Ma vediamo se riesco in questo momento a sentirlo questo disgraziato Niente da fare, non riesco a sentire Va bene, non fa niente, dopo sentiremo da lui se per caso ci ha sentiti tramite la web radio Comunque se mi sei ascoltato Gianluca ho provato a chiamarti con Skype ma nulla da fare Allora, dicevo, questo gruppo è un gruppo, non mi ricordo di dove è, comunque va bene lo stesso Fanno dei bei brani, però vi consiglio di andare sul sito di giamendo.com e di andarle a vedere Perché veramente meritano, meritano E se volete sapere tutti i link andate in uno dei vecchi post che ho pubblicato in questi giorni E appunto ho parlato di questo gruppo Poi ho messo anche tutti i link sia di Facebook che di, diciamo, del link sul giamendo dove andare a scaricare le cose Gianluca mi dice non so che cavolo succede, mi sto accorgendo di tanti problemi Chi ha, insomma, Gianluca, insomma, lo so Vediamo, dopo ti rispondo Adesso sono online e vediamo se riusciamo a fare Però, adesso, continuando, non sarà una vera e propria puntata, come vi dicevo, dei due compari Questa sera, per semplice motivo, perché mancano i compari Insomma, sono solo, sono rimasto solo io, il padrino, no? Nella cosca qua E allora vi voglio parlare di alcuni articoli sul giornale Perché la cosa che mi, in questi giorni mi ha colpito è un po' la politica, non la politica italiana Non voglio tediarvi troppo Vi dico solo alcune cose, poi passeremo subito al secondo brano della serata Perché questa puntata non durerà molto Per esempio, si parla di politica e palazzo Per esempio, la consulta che dice il Movimento 5 Stelle Ha scritto a Violanti a Bruno, dicendogli fate un passo indietro Non so se voi state seguendo questa storia Che non si riesce Non si riesce proprio a capire che non si riescono a eleggere questi due personaggi Non so, hanno personaggi strani Voi cosa ne dite? Anzi, aspetto da voi commenti in chat Mi raccomando, scrivetemi in chat Che è importante Io in chat pubblico che cosa? Niente Non posso pubblicare niente per il momento Volevo mandarvi il link Appena lo trovo Vi mando il link di questa band questa sera Così potrete andare a vedere Quindi se venite in chat Troverete il link direttamente Che vi porterà su Giamendo E ascoltarvi questa band Allora, dicevamo Perché i 5 Stelle chiedono ai candidati Per la Corte Costituzionale Di rinunciare alla candidatura C'è una lettera addirittura Il Parlamento addirittura non trova un accordo su questi nomi E i lavori sono bloccati Quindi un Parlamento è bloccato su una cosa Diciamo di candidature Candidature che poi Insomma anche all'interno dei partiti Che li hanno presentati Non si mettono d'accordo A me sembra una grande cazzata questa Altra cosa importante Di queste notizie Sono Guarda Forza Italia Che fitto dice Che la classe dirigente Anzi si fa una domanda Sulla classe dirigente Che dice Dal basso i giovani lo acclamano C'è addirittura una forte opposizione A Renze primarie E meritocrazia Insomma Così l'eurodeputato pugliese Intervenuta a Sirmiona Insomma ha incassato Una standing ovation Cavolo L'ho detto bene questa sera Potete veramente Meravigliarvi con il vostro Saiuz Che dice tante cose E insomma Che sicuramente Vi stanno facendo meravigliare Allora Passeremo subito Al secondo brano Della serata Mentre cercherò di recuperare Gianluca Se ci riesco Lo porto in online Almeno una mezz'oretta Per farci raccontare Perché questa puntata Volevo dedicarla Tutto a lui Che ci Parlasse un po' Di quello che ha combinato In questi mesi Perché ha fatto tante cose Molto interessanti Che sono anche belle Da ascoltarla Poi Gianluca Le sa raccontare Queste cose Ma adesso passiamo Al secondo brano Della serata Insomma Un brano Che secondo me Merita Anche questo Merita di essere Ascoltato Perché il brano Si chiama Noise Tank Cioè Prese E' scritto così Scusatemi Come non pronuncio Dei Gone Gone By Free Day Il gruppo si chiama E' il brano Noise Tank Che è anche il titolo Dell'album Insomma Che ha preso E' Andrato addirittura Il titolo All'album Con questo brano E ve lo faccio ascoltare Un brano Che non dura Moltissimo Dura pochi minuti Però veramente Sono interessanti Questi ragazzi E vediamo Partiamo subito Col brano Appunto Noise Tank Dei Gone By Friend Cavolo Però sto parlando Benissimo In inglese Ragazzi Cosa ne dite? So turn it up I hate it Like a good noise tank Breaking the lame walls Of my system I'm burning down I'll erase it Like a quick fix Double-dose it For the faceless pinhead You know you're out of roll When everything feels cold When everything feels cold Here we go Turn it up so loud It takes me home A silent sorry night It takes control To watch my own life I know that I am not alone I want it all No resistance Like a nice tank Breaking down the lame walls Of my system Tear it down I'll fix it I'll fix it Put faith in place And make your home Same endless You know you're out of roll When everything feels cold When everything feels cold Here we go Turn it up so loud It takes me home A silent sorry night It takes control To watch my own life If I know that I am not alone Here we go Here we go When everything feels cold Here we go Turn it up so loud It takes me home A silent sorry night It takes control To watch my own life I know that I am not alone A silent sorry night I am not alone A silent sorry night And I am not alone It takes me home Molto bene cari amici Ed eccoci qui Che il vostro Science Ti torna online In video Mi vedete State vedendomi Come sono bello Come un sole Scherzi a parte avete appena ascoltato dei Gone by Free Day Noise Tank che prende anche il titolo che è stato dato all'album come potete vedere vi faccio vedere la copertina ripeto, chi mi stesse ascoltando sulla web radio consiglio di andare sulla web tv perché così almeno distruggo tutto ciò che è in inglese quindi potete vedere sia la copertina di questo gruppo di questo lp di questo gruppo e potete anche vedere i titoli dei brani quindi chiedo scusa ho provato ad acchiappare Gianluca in questo momento ma purtroppo sta avendo dei grossi dispiaceri col suo computer Gianluchino Mancusino se mi senti batti un colpo ma non ci sei allora, ritornando a noi volevo ricordarvi alcune cose fondamentali del nostro network sapete benissimo che noi siamo per iniziare anche delle nuove trasmissioni comunque quelle vecchie insomma quelle che che stanno andando da un po' di tempo lasciando stare questa qui dei due compari che è quella storica ma vi parlo di Spazio Aperto che va in onda tutti i mercoledì alle 18.30 trasmissione condotta da Antonella Intranoio e Ugo Lombardi e con la partecipazione di Massimo Bonella di Pianeta UCDV poi del giovedì insomma facciamo anche delle puntate straordinarie degli speciali di Ecomondo 2000 insomma dove parliamo di politica di sociale ma soprattutto ultimamente abbiamo parlato anche di marxismo e con l'ingegnere Alessandro Pat l'abbiamo parlato abbiamo accennato a qualcosa l'ultima proprio che abbiamo fatto abbiamo accennato qualcosa ai contratti di fiume che è diciamo un'esperienza molto democratica riguardo il nostro territorio il territorio non solo del Veneto ma insomma di tutta Italia i contratti di fiume anzi tutta Europa perché vuole del resto il contratto di fiume riguarda un po' tutta Europa e quindi insomma mi consiglio caldamente di andare sul nostro sito a darvi a rivedere queste puntate dove siamo presenti su Youtube siamo presenti su Facebook e quindi non potete non vederle insomma sono abbastanza reclamizzate si può dire tra virgolette facciamo così le virgolette così non mi capite male dove io sto cercando di seguire di parlarvi di alcune cose fondamentali sia del nostro sociale della nostra politica ma anche del nostro spazio ludico che può essere la musica se voi avete fatto caso su un po' di post fa insomma sto pubblicando dei post riguardanti dei gruppi che mettono a disposizione la loro musica sotto le scienze creative commons e che poi questi gruppi entrano di dritto nel palinzesto di Science Web Radio del nostro network ma avrete anche notato attraverso il nostro sito che è www.sciencewebnetwork.it che abbiamo aperto questo meraviglioso canale che è una delle mie palline delle mie cose che ci tenevo tantissimo il canale classic che non è proprio solo classico di musica classica è una classica intesa come musica diciamo tranquilla leggera non come la web radio standard che trasmettiamo musica rock pop act soprattutto quella che volete metterci però su questo canale trasmettiamo tutto ciò che è musica classic con la C ecco non ho messo la finale giusto farvi capire che proprio non è solo musica classica e anche in questo caso ho incominciato a mettere dei post sul nostro blog sul sito www.sciencewebnetwork.it appunto questi post che ho presentato un primo artista che mette a disposizione musica classic appunto sotto la licenza creative commons insomma è fondamentale che sta molto molte volte mi prendono in giro che ci scherziamo sopra quando diciamo a musica creativa sotto la licenza creative commons alla musica sciaio eccetera io credo molto nella musica con licenza creative commons perché diciamo secondo me la massima espressione di democrazia esiste nel campo musicale ma è non solo nel campo musicale perché poi si può adattare anche insieme ad altri artisti insomma una sniffata qui al toscano perché è importante fumare il toscano anche in diretta se ci tengono soprattutto voglio farmi vedere la luca e gialluca quando rivedranno questa puntata come mi hanno ridotto e allora per continuare il nostro discorso volevo parlarvi adesso di un altro fatto che c'è stato che è abbastanza interessante dove il senatore Razzi ve lo ricordate Razzi il senatore che fa fare un po' di risate dove Crozza diciamoli non è che lo prende in giro ma Crozza fa un po' l'imitazione di questo senatore Razzi si rivolge a Floris e gli dice se mi inviti con Crozza arrivi anche al 50% di Scevra e dice Benigni e chi è? solo con me Giovo può fregare Giannini dice è appunto l'appello che Razzi ha lanciato alla Zanzara su Radio 2 il senatore di Forza Italia sul fatto quotidiano punto it appunto c'è la registrazione di questa intervista che Razzi ha rilasciato appunto alla Zanzara su Radio 24 e c'è una cosa molto carina e divertente questa insomma perché a me fa fare un sacco di risata lo so che ci meriteremmo di meglio insomma come senatori però cosa volete fare? se vengono eletti possiamo farci ben poco fino a quando avremo questa politica e questo sistema elettorale insomma dovremo non solo accontentarci ma diciamo fare buon viso a cattivo gioco no dobbiamo contestare e protestare è la cosa fondamentale questo bene adesso non voglio tediarvi molto con le mie chiacchiere vorrei passare all'altro brano di questo gruppo dei Gone by Free Day è un brano anche questo molto interessante perché è accattivante insomma ecco forse ho trovato il termine giusto per parlare di questo gruppo è accattivante il brano si chiama I guess it was destiny comunque vi invito sempre e comunque ad andare sulla web tv insomma per vedere insomma per vedere il titolo per leggere il titolo per vedere la cover la copertina di questo lp perché se no se ascoltate me non capirete più niente soprattutto il mio grande inglese e ascoltiamoci questo brano poi ci risentiamo can we pretend that my life's not standing still that my heart is beating for the thrill when those lights go down can I hear the crowd did I make him proud it depends on who else is along for the ride other people they run and they hide when those lights go down can you face it or force your own suicide in the end when everything is so fucked up and I'm feeling so down in my luck when those lights go down did I make him proud when those lights go down I guess it was destiny yes this is the path for me when those lights go down did I make him proud did I make him proud when those lights go down when those lights go down guess it was destiny yes this is the path for me when those lights go down did I make him proud clinical strength depression was by my side pouring out my disposition inside when those lights go down can I hear the crowd did I make him proud in the end it's sort of feeling like I've died but that music made me feel alive when those lights go down did I make him proud when those lights go down I guess it was destiny yes this is the path for me when those lights go down did I make him proud when those lights go down I guess it was destiny yes this is the path for me when those lights go down did I make him proud when those lights go down I guess it was destiny yes this is the path for me when those lights go down did I make him proud so hold hold on do what you want and make it true so hold hold on do what you want and make it true when those lights go down I guess it was destiny yes this is the path for me when those lights go down did I make him proud when those lights go down when those lights go down when those lights go down guess it was destiny yes this is the path for me when those lights go down did I make him proud I guess it was destiny come on come on come on come on come on come on bene bene cari amici ed eccoci qua di nuovo in diretta il vostro science vi ha fatto sentire una cosa meravigliosa qua eh un altro brano di questo gruppo che si chiama Gone by Free Day il brano eh intitolato eh I guess it was destiny ti comunque eh vi avevo detto di guardarmi sulla web tv perché così vedevate esattamente il titolo del brano eh mi hanno detto che si è arrivato un po' male questo brano sulla web radio chiedo scusa perché era settata male il mixer adesso dovrebbe essere tutto ritornato eh perfettamente online in ordine senza nessun problema quindi non ci sono problemi eh di risorta in questo momento anzi se mi scrivete in chat mi fate sapere come vi arrivo eh è importante insomma se la web radio perché quando si ha gli altri due compari eh ho una spia dall'altra parte che mi ha mi diciamo mi fa sapere come funziona il tutto ma adesso però torniamo a noi anzi prima volevo vedere eh se eh Gianluca insomma era in linea eh poteva ritornare ma niente mi sta addirittura a scrivere a Facebook quindi non eh non c'è nulla da fare non riesco a tirarlo dentro questa serie mi dispiace veramente perché meritava questa puntata meritava soprattutto che facessi ascoltare dalla viva voce di Gianluca raccontare quello che ha fatto in questi mesi che è molto importante perché Gianluca eh diciamo era molto impegnato è stato è stato molto impegnato insomma il campo artistico l'ultimo che ha fatto la cosa bella è diciamo una presentazione storica se non sbaglio in Puglia eh figuratevi Gianluca adesso mi scrive da Facebook dicendomi che non sa davvero una parola ho provato a riaffiare tutto il computer insomma ha accesa anche la carbonella sotto per vedere che riscaldandolo poco eh ma niente da fare il suo computer non vai scriviamo che ok vabbè che cosa vuoi farci caro Gianluca eh io qui sono in diretta sto cercando di sopperire alla mancanza di tutti e due caro Gianluca di te e di Luca eh però insomma va bene così allora ritornando a noi ritornando a quello che vi stavo dicendo un po' sul campo della politica voi sapete che ci sono delle indagini in corso no? eh c'è un'indagine su Verdini addirittura Verdini è andato a finire a giudizio per un finanziamento illecito sembra c'è l'indagine insomma relativa alla compravendita eh di un immobile nella capitale insomma eh e non solo a quella ma ad anche una plusvalenza da 18 milioni di euro insomma sta plusvalenza poi mi spiegaranno i commercialisti che cos'è esattamente il senatore ha detto che è strano ogni accusa comunque eh a processo anche c'è ci sta un altro senatore di Forza Italia che è Riccardo Conti e poi c'è Angelo Arcicasa che è già presidente dell'Empa comunque saranno a vedere su tutte le cose che vanno avanti che fino a quando la giustizia non fa il suo corso e non ci dicono se veramente hanno commesso il fatto perché essere premesse diciamo essere accusati essere indagati non vuol dire essere condannati quindi essere colpevoli io sono per la giustizia sana insomma senza quei giustizialismi facili no che si fanno nel diciamo che si fanno diciamo a buon mercato quando la gente non sa che cavolo dire insomma per questo e poi c'era anche un altro articolo che volevo dire se riguarda Iara vi ricordate la faccenda di Iara insomma che i RIS hanno detto che non è possibile una diagnosi certa su tracce di NA che è stata trovata sui vestiti insomma i difensori di Massimo Bossetti riportano appunto uno dei punti della relazione dell'istanza di scarcerazione che poi è stata rigettata dal GP di Bergamo insomma per l'accusa le tracce sul corpo sono la prova regina insomma la prova che è principale contro il 44enne insomma che è stato messo in carcere è stato accusato di aver commesso questo efferato delitto insomma perché staremo a vedere anche qui io sono del parere che bisogna aspettare la sentenza anche se purtroppo le nostre sentenze vanno alla lunga molto ma molto alla lunga per sapere qualche cosa Gianluco si scusa per quanto riguarda mi sta appunto scrivendo che si scusa con me insomma anche per tutti noi ascoltatori appunto che non si è accorto prima di questo problema che gli è capitato però insomma vabbè insomma caro Gianluca tutto può succedere se tu conosci la legge di Marfi insomma è sempre lì Marfi che ci sta addosso insomma che ci si si che è come un corvo che ci fa capitare le cose Gianluca quando ascolterai questa puntata insomma saprai che ho commentato anche in diretta queste due affermazioni e va bene così non ti preoccupare sono le 22.51 vi ricordo che siete sempre sintonizzati sulle web frequenze di Science Web Radio e Science Web TV fanno parte del network appunto che Science Web Network questo network che abbraccia sia la Web TV che la Web Radio noi diciamo web frequenze ci vuole farvi capire perché risolto le frequenze sono quelle della televisione della radio normale insomma dove ascolta sia la radio FM insomma che poi anche quelle dei canali digitali a questo punto non mi resta che mandare un altro brano brano che vediamo un poco cosa posso farvi ascoltare ecco qua posso farvi ascoltare questo brano qui che anche questo è un brano che si chiama Minut 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 sempre They Gone by Free Day questo è un altro brano non do questi brani intorno ai 3-4 minuti se avete fatto caso però è un gruppo veramente affiatato vi ripeto scusatemi andate a leggervi il mio vecchio post su questo gruppo sul nostro blog che è sul sito www.saizuobrenetwork.it dove lì ho messo anche tutti i link dove potrete andare a vedere sia la pagina di Facebook di questo gruppo ma anche i link per potervi andare a scaricare i brani che sono su giamendo.com ok comunque il gruppo è entrato di dritto nel nostro palinzesto della web radio quindi insomma a rotazione entrerà sempre insomma potrete ascoltare tranquillamente e allora andiamo con questo brano ci risentiamo dopo a Grazie a tutti 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 con questo Grazie a tutti 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 dentro la Grazie a tutti Grazie a tutti valida Grazie a tutti 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 Grazie a tutti